a portarli poi in palestra per gli allenamenti. È passato qualche anno, però sicuramente l'entusiasmo di questa famiglia è rimasta intanto. Si vede anche l'emozione del papà, che questa sera è emozionato sicuramente. Forza? Hi! Allora, la motivazione è il comune di Sant'Aniello, premia Monica De Gennaro, miglior libero del campionato mondiale di pallavolo femminile in Giappone nel 2018. Grazie, Moki. Moki, perché? Perché quando ho iniziato si usavano dei soprannomi, io non ne avevo uno, una mia compagnia di squadra mi ha detto, ma perché non usi Moki? Ho detto, ok, va bene. Va bene così, grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo anche per le conclusioni. L'ultima parola è il saluto, grazie. Veramente grazie a tutta la famiglia di Gennaro e un abbraccio forte alla nostra amore. Grazie da tutto Sant'Aniello.